E' riviusi a SMR Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene Oggi andremo a mangiare gli spaghetti molecolari super clear Siete pronti? 1, 2, 3, go! Aiuti, gli spaghetti, ma guardate, ma sono bellissimi Tutti traspare, traspare Ok 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 Spaghetti 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 Grazie. grazie a tutti Sì, sì. sono completamente commestibili e sono buonissimi a differenza degli altri, questi sono clear, sono trasparenti gli altri erano pacchi un po' di soli per farlo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.